Che palle, sto video non passa mai e poi ho fatto un sacco di errori. Volevo soltanto estrapolare un momento cruciale, questo qua, in cui mi viene bene un trick, forse bene generoso, ma vorrei solo un modo per marcare l'inizio e poi la fine di un segmento video e poter esportare solo quella parte che mi interessa. Ah, tipo così. Figo. Dieci e passa anni fa, anche più di dieci ora che ci penso, sul mio primo Mac, il player video predefinito ovviamente era QuickTime, QuickTime 7 Pro, che aveva la particolarità di avere due piccoli selettori sulla barra di riproduzione per impostare il punto di ingresso e il punto di uscita qualora volessimo tagliare al volo una porzione di un video. È una cosa che ormai siamo abituati a fare con estrema semplicità, sugli smartphone quando facciamo un invio su WhatsApp o simili. Per qualche ragione questa cosa, e io non ho mai capito il perché, su PC è sempre stata più complessa di quello che doveva essere. Tagliare una porzione di un video senza dover passare da un video editor che scoraggia moltissimi. Meno male che esiste il software libero, perché grazie a questo modello che possiamo implementare le funzionalità che ci fanno venire la bava alla bocca senza dover aspettare e pregare in ginocchio che qualcuno le implementi al posto nostro. L'altro giorno, per l'ennesima volta, ho avuto la necessità di tagliare una piccola porzione di un video. E chi ha visto il mio video precedente su FFmpeg sa che il mio modo superante in generale per questi casi d'uso è aprire al volo un terminale e dire FFmpeg taglia da qui a qui. Questo è perfettamente funzionale e decisamente più rapido di aprire un video editor e fare l'esportazione, ma comunque non è ideale nel momento in cui stai visionando molti media e devi fare molti tagli. Per cui mi sono chiesto, è possibile che il mio video editor preferito, MPV, di cui ho parlato anche in un altro video, non abbia un qualche meccanismo simile? E salta fuori che MPV supporta un sistema di plugin piuttosto semplice e per questo piuttosto potente. I plugin sono dei semplicissimi script in Lua e si dà il caso che più di un utente abbia richiesto questa funzionalità consultando le issue di MPV su GitHub alla domanda Use MPV for cutting up videos dove effettivamente qualcuno ha menzionato che ci sono già almeno 4 repository di utenti che hanno fatto questa cosa, anzi ne arriva un quinto. Bene, io ho dato una rapida occhiata a ciascuno di questi. Non me ne piace nessuno perché per una ragione o per l'altra sono tutti un po' rotti in un modo o nell'altro o non si comportano esattamente come speravo. Questo è anche spesso il caso del free software ognuno si scrive le cose plasmate sulle proprie esigenze e le proprie esigenze non è detto che vadano effettivamente di pari passo con le tue esigenze ma nessuno ti vieta di modificare. Vi presento MPV plugin Xerpt V2 fork dell'omonimo plugin senza V2 ormai non più sviluppato dal 2018. Il plugin, ve lo faccio vedere al volo, è semplicissimo di una semplicità disarmante, sono appena 180 righe e probabilmente si può semplificare ulteriormente e non fa altro che invocare FFmpeg al posto mio componendo la command line con il punto di ingresso e il punto di uscita che io specifico all'interno del player. È di una semplicità disarmante e ci ho messo anche qualche opzione che lo rende ancora più interessante. Questo è un video di esempio fra l'altro bello pesante per gli standard di un video editor perché si tratta di una traccia in 4K a 60fps. Ebbene, il plugin funziona in questa maniera. Ti guardi il tuo video, individui un punto di ingresso ad esempio il cambio scena in cui compare ad esempio questo uccello vi ricordo che in MPV possiamo scorrere i fotogrammi singolarmente con il punto e la virgola rispettivamente premo I e mi dice In Point Set quindi il punto di ingresso è impostato. Continuo a riprodurre fino a più o meno il punto in cui voglio fermarmi diciamo qui, quando l'uccellino cade magari fotogramma per fotogramma mando avanti fino alla fine di questa scena perché poi c'è un altro taglio e poi premo O Out Point Set Voilà! Questi due punti di ingresso e di uscita sono anche visualizzati sulla barra di riproduzione vedete? Uno e due. Ho fatto in modo che comparissero come capitoli così è più chiaro leggere In e Out. Inoltre essendo capitoli ora con i controlli di riproduzione posso saltare all'ingresso e all'uscita. ingresso e uscita semplicemente con i controlli. Comunque voglio estrapolare questa porzione di video tutto ciò che devo fare è premere X Voilà! Guardate è stato istantaneo ha scritto un file con lo stesso nome nello stesso percorso e un suffisso eccolo qua il file è 1.5 MB ma perché è stato così istantaneo? Perché non ha fatto nessun genere di codifica quindi senza perdita di qualità e senza costo computazionale. Questo è un approccio che comporta dei vantaggi e degli svantaggi i vantaggi sono evidenti lo svantaggio è che il taglio che ottieni è meno preciso perché si salta direttamente al fotogramma chiave più vicino che per chi non è tecnico e avvezzo alla terminologia dei video significa che non hai un taglio esattamente al fotogramma dal fotogramma di partenza al fotogramma di fine ma ha qualcosa che si avvicina abbastanza ma può essere anche qualche secondo più indietro o più avanti questo qua che io ho richiesto è un taglio piuttosto preciso quindi questa modalità qua potrebbe non essere l'ideale vediamo il risultato comunque non è male però non comincia dove gli ho detto io e questo non va bene 9 quindi che dite se ci riproviamo però questa volta premo E maiuscola per abilitare l'encoding in questo modo il video verrà effettivamente codificato premo X per farlo tanto ci metterà qualche secondo in più quindi potenzialmente si può perdere un po' di qualità ma con queste impostazioni ho fatto in modo che non si vedesse nessuna perdita di qualità ma soprattutto come vedete non è così istantaneo ci mette qualche secondo in più specialmente su una traccia in 4k a 60 fps ok ha fatto però il taglio è garantito essere perfetto vediamolo voilà ora a seconda della vostra necessità chiaramente potreste volere sempre utilizzare la codifica oppure sempre usare il taglio veloce perché chi se ne frega se prendo un secondo più un secondo meno io nel mio caso ho messo di default l'opzione senza codifica perché tutto sommato prediligo una rapidità di un certo tipo e poi tanto i tagli di precisione li faccio in un video editor nel caso in ogni caso per cambiare dalla modalità all'altra basta sempre premere E per passare dall'encoding al taglio secco però vorrei che questa funzionalità fosse più popolare anzi vorrei che fosse predefinita e inclusa all'interno di ogni video player perché non c'è davvero nessuna ragione al mondo per cui non dovresti volere una cosa così secondo me quindi vi faccio vedere come installare questa estensione e poi voglio sapere come vi trovate ovviamente viene da sé che dobbiamo aver installato MPV fatto ciò apriamo file manager ctrl l per aprire la modifica del percorso scriviamo .config e ci spostiamo effettivamente nella cartella di configurazione di MPV qui troviamo il file di configurazione con le impostazioni predefinite di MPV può anche non essere presente io qui ho impostato semplicemente il percorso predefinito degli screenshot che faccio poi una cartella scripts che se non esiste possiamo crearla noi al suo interno basta andare a inserire tutti i vari plugin lua come ad esempio excerpt.lua che è il nome del mio plugin questo lo trovate sul mio repo github di cui vi lascio il link in descrizione il file che vi interessa è questo qua excerpt.lua basta cliccarlo e fare tipo scarica e ve lo copiate qui dentro io ovviamente l'ho già quindi non lo rifaccio fatto non dovete fare nient'altro la prossima volta che aprite MPV il tasto I segnerà il punto di ingresso il tasto O il punto di uscita e X per esportare ecco tenete presente che il tasto I prima di questo plugin aveva una funzione ben precisa ed era mostrare in un istante le informazioni sul file multimediale in riproduzione questo può essere ancora fatto premendo shift più I quindi maiusc più I e mostra le stesse informazioni però rimangono lì finché non premete shift I di nuovo fine volevo solo condividere con voi questa figaggine secondo me è pazzesca io la uso spessissimo ed è stato tipo la migliore il tempo meglio speso che potessi spendere come sempre spero di avervi dato qualche spunto utile colgo l'occasione per ringraziare anche i miei patreon grazie ai quali la produzione di video di questo tipo un po' più tecnici un po' più croccanti ma non necessariamente popolari è ancora possibile e anche grazie ai vostri consigli e al vostro supporto se posso dedicare tempo alla documentazione alla scrittura di cose di questo tipo fra l'altro per chi è su patreon faccio spesso delle live tematiche su diversi argomenti come quella fresca fresca dell'altro giorno in cui ho ripercorso la mia ultima analisi black box per craccare tra virgolette la licenza di da vinci risolve è un discorso complicato non voglio entrare nel dettaglio adesso ma sappiate che questo è il livello dei contenuti che sono su patreon contenuti che palesemente non potrebbero mai essere popolari su youtube per le più svariate ragioni il capitolo precedente altrettanto apprezzato è stato l'installazione di archlinux su zfs al termine della quale una live di due ore e mezza mi sono concesso una bella birretta perché era veramente necessaria e meritata e devo dire che sono felice di poter condividere le mie mirabolanti avventure a volte troppo tecniche per essere popolari con una piccola ma selezionatissima udienza senza dover pubblicare compromettendo le mie metriche o peggio ancora lo stato della partnership su youtube quindi grazie di cuore e ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.